Puntata numero 193 con G-Style insieme a Stefano D'Alberto. Illustriamo subito quello che vedremo, la grande abruzzezza. Si è svolto in teatro a Pescara al Teatro Massimo con Marco Papa e Vincenzo Livieri. Grande tripudio di pubblico non solo a Pescara ma anche nella data di Teramo, quindi un'intervista esclusiva che ci hanno rilasciato e anche immagini che potrete vedere in questa seconda parte. Con noi anche la start-up aziendale come argomento Start-up and Start-up con l'ingegner Ugo Fabrizi. Parleremo del progetto Monitoraggio Zonosfera. Ancora una volta protagoniste le nuove coppie con Sposiamoci, Fiera degli Sposi che si è svolta a Lanciano. Andremo ad osservare altri nomi, altri personaggi presenti in questa manifestazione. Un piatto per te, la nostra rubrica culinaria con timballo di verdure e pagliaroli croccante ed è il sesto piatto che proponiamo all'interno di G-Style. Per voi un altro momento dedicato a I Give For You per tutte le nuove coppie in questi book che vengono realizzati proprio nel nostro studio di G-Style per tutti i futuri sposi insieme a Giulio Gennari, quindi immagini del quinto evento. Un gran galà per concludere quello che si è svolto qualche tempo fa a Villa Alessandra e della seconda parte. Ringraziamo gli amici di Ghidei Sposi per il gran galà degli sposi, quindi buona visione con G-Style. G-Style, ti segue in movimento, racconterà per voi le storie più belle. Il tuo filmato preferito, sempre in tasca. Ci trovi su YouTube G-Style TV. Quanti ci seguono? Vai su YouTube G-Style TV G-Style, seguici e vedrai. Vuoi essere protagonista di G-Style? Invia subito il tuo filmato premendo REC sul tuo smartphone a info giulio-gennari-libero.it e sarai protagonista di G-Style. Quante volte hai sognato? Ora c'è G-Style. Con il tuo smartphone puoi vederci quando vuoi, su YouTube G-Style TV. G-Style, ti segue in movimento, racconterà per voi le storie più belle. G-Style, ti segue in movimento, racconterà per voi le storie più belle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.